La Polisportiva Santa Maria finisce KO contro la Virtus Stabia. Il match si decide con un gol per tempo, ma l'impatto con la gara è positivo per i giallorossi che con diverse occasioni provano a sorprendere la retroguardia napoletana. La palla gol più importante arriva al ventesimo con Sabatino. L'Opetrone scavalca la difesa servendo l'attaccante, controllo del 9 e tiro salvato miracolosamente da Munau. Quando la gara sembra incanalarsi all'intervallo sullo 0-0, arriva un calcio di rigore per la Virtus Stabia per un intervento di Cuomo su Boiano giudicato falloso. Dagli 11 metri va a Farriciello che non sbaglia e segna l'1-0. Nella ripresa i giallorossi ritornano in campo vogliosi di acciuffare subito il pari. Al ventitreesimo l'episodio che potrebbe cambiare la gara. La Virtus Stabia resta in 10 uomini per il doppio giallo a Boiano, ma superata la mezz'ora è di nuovo strianese a provare a scuotere i suoi, anche se il tentativo dal limite dell'area non trova lo specchio della porta. Il Santa Maria si catapulta in avanti e lascia spazi in contropiede agli avversari. In pieno recupero, Buonocoro si divora la palla del possibile 2-0, ma ancora con un ottimo contropiede la formazione di casa trova il 2-0 definitivo con la rete di Principe. Per i giallorossi è il secondo KO consecutivo.